Con l'arresto ieri di Matteo, Mestina, Denaro, sono soltanto quattro le persone che attualmente restano nella lista dei latitanti più pericolosi d'Italia, i cosiddetti super latitanti, tra loro c'è anche il boss della camorra Renato Cinquegranella. Nato a Napoli il 15 maggio del 1949, la carriera criminale di Renato Cinquegranella comincia tra gli anni 70 e gli anni 80, quando entra nelle fila della nuova famiglia, clan di camorra contrapposto alla nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo. Secondo gli inquirenti Cinquegranella è coinvolto nell'omicidio di Giacomo Frattini, detto Bambulella, affiliato alla NCO, torturato, ucciso e fatto a pezzi il 21 gennaio del 1982. L'omicidio di Frattini fu eseguito per vendicare la morte di Aniello Lamonica, allora boss di Secondigliano e Sodale, la nuova famiglia, ucciso in carcere. Ancora secondo gli inquirenti Cinquegranella sarebbe stato coinvolto anche l'omicidio del capo della squadra mobile di Napoli Antonio Ammaturo e del suo autista Pasquale Paola, uccisi il 15 luglio del 1982 dalle Brigate Russe. Per gli inquirenti il boss Cinquegranella avrebbe dato rifugio ad alcuni dei responsabili dei due omicidi nella sua villa di Castelvolturno nel Casertano. Renato Cinquegranella è latitante dal 6 ottobre del 2002 da oltre 20 anni e ricercato per associazione per delinquere, ristampo mafioso, concorso in omicidio, detenzione, porto illegale di armi, estorsione ed altro. Dal 7 dicembre del 2018 sono state diramate le ricerche in campo internazionale per arresto a fini estradizionali.